Il critico d'arte Vittorio Sgarbi, condannato a pagare 15.000 euro per risarcimento dei panni, deve risarcire Alex Marini, del Movimento Pentastellato, consigliere in provincia a Trento. Ah Vittorio Sgarbi, povero Vittorio Sgarbi, povero Vittorio Sgarbi, perché Vittorio Sgarbi aveva detto che Alex Marini era un de-pensante e anche un onanista, onanista vuol dire uno che le cose le fa da sé, onanista. Vuol dire uno che le cose le fa da sé, onan, onan, la Bibbia, Vecchio Testamento, capito? Onanista, usando parole chiare, l'onanista è un masturbatore di sé stesso, di sé stesso, è un masturbatore di sé stesso, onanista, che poi, se vogliamo andarci a fondo, un onanista, recentemente ho dedicato un video a questa situazione, perché all'Isola dei Famosi una certa attrice ha detto ai suoi colleghi che siete delle pippe, siete delle manette, ecco, recentemente ne ho parlato della faccenda di chi si masturba, di chi si masturba, anche Pugnetta, si chiama anche Pugnetta, eh. Allora, allora, si vede che Alex Marini si è rivolto alla magistratura italiana e la magistratura italiana, nella fattispecie giuridica concreta del Tribunale di Macerata, ha condannato il critico d'arte Vittorio Sgarbi a pagare 15.000 euro, uè, 15.000 euro non sono mica pochi, eh, e adesso Vittorio Sgarbi si dovrà dare da fare per racimolare tale somma, dovrà darsi da fare, dovrà fare la critica d'arte a tanti dipinti, a tanti dipinti, perché sapete che l'Italia, diceva Benito Mussolini, è un paese di poeti, ma se io ero il duce avrei scritto che l'Italia è un paese di poeti, ma anche di pittori, si dice anche che ci sono i pittori della Domenica, sì, sì, ma ci sono pure i poeti della Domenica, eh, e ci sono pure gli scrittori della Domenica, ma io non sono uno scrittore della Domenica, perché i miei libri vanno a ruba in libreria, capito? I miei libri vanno a ruba in libreria, e per La Rama e la Rosa, pubblicato dalla casa editrice internazionale a Shet, e io ho ricevuto come diritti d'autore 15.000 euro, 15.000 euro l'ho già dimostrato pubblicamente, dimostrando le carte, sì, sì, Vittorio Sgarbi può trattarsi da fare facendo le sue recensioni ai dipinti, ai dipinti, ai quadri, e l'Italia è piena di pittori della Domenica, anche poeti della Domenica, anche scrittori della Domenica, ma io tale non sono, perché il mio libro, i miei libri, i miei libri volano in libreria. Va bene, va bene, io faccio tanti auguri, eh, sia Vittorio Sgarbi, che faccia presto a raccogliere 15.000 euro, al consigliere della provincia di Trento Alex Marini, e tanti auguri anche a tutti voi. Ok, 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 Serafino Massoni.